Musica Ben ritrovati amici telespettatori di Rete8 per questo ultimo spazio di approfondimento delle amministrative 2019 e siamo a Giulianova o meglio siamo nel caratteristico belvedere del comune costiero dove stiamo per intervistare i due candidati che sono andati al ballottaggio da una parte c'è Ivan Costantini appoggiato da sei liste civiche e dall'altra Pietro Tribuiani l'appoggiato del centrodestra, dei partiti del centrodestra ma non perdiamo tempo e andiamo subito a sentirli Siamo in compagnia con Ivan Costantini candidato sindaco delle liste civiche un ottimo risultato quello che lei ha avuto al primo turno Beh sì, un risultato meraviglioso tanti cittadini ci hanno accordato la loro fiducia va all'onore delle armi agli altri tre competitor che non sono entrati nella seconda fase della competizione elettorale non abbiamo vinto ancora nulla il vero cambiamento passa per la data di domenica 9 dove noi dobbiamo concretizzare e cercare di dare una prospettiva politica a questa città che da troppo tempo aspetta ma io sono certo che i cittadini giuliesi non sbaglieranno andranno al voto consegnando la città a persone che da 5 anni sono sul territorio col sorriso sulle labbra e che hanno solo ed esclusivamente parlato in questi 40 giorni di tematiche, di programma e di quello che si deve fare nei primi 10 giorni nei primi 6 mesi e negli ulteriori 24 quindi noi continuiamo col sorriso sulle labbra e siamo convinti lunedì mattina di entrare in questo prestigioso ufficio per metterci al lavoro e al servizio della nostra cittadinanza con quel cuore, quell'entusiasmo e quella passione che mettiamo nel fare politica che sinceramente non abbiamo visto negli altri Una campagna elettorale molto lunga, è stanco oggi? No, stanco no è stata una campagna lunghissima noi siamo a lavoro sul territorio da tanto tempo ma i cittadini ci danno una carica incredibile ogni sera incontriamo mattina, sera pomeriggio incontriamo tantissima gente che ci dice di andare avanti che ci dice che questa città deve tornare nelle mani di cittadini comuni che non sono legati alla politica di Terramo che scendono in piazza, che fanno politica tra la gente noi siamo stufi di vedere queste passerelle di questi politici che arrivano da chissà dove e non conoscono nulla del nostro territorio noi volevamo fare i confronti nelle piazze non c'è stato dato modo dal nostro competitor ma noi nelle piazze stiamo andando comunque toccando le persone per troppo tempo i cittadini hanno visto la politica chiusa in una campana di vetro politici chiusi all'interno delle stanze di potere candidati sindaci scelti in una stanza due o tre persone noi crediamo nella politica partecipata noi vogliamo stare tra la gente, in mezzo alla gente crediamo nel bilancio partecipato crediamo che le decisioni da prendere non debbano essere prese in queste stanze ma debbano essere prese nelle piazze e quindi noi andremo in tutte le piazze di Giulianova parleremo con i cittadini, li guarderemo negli occhi perché l'unico vero cambiamento passa per uomini e donne liberi io sono stato dentro i partiti e so come funziona sceglieranno una squadra di governo a Teramo e noi non lo permetteremo perché i cittadini domenica ci daranno la fiducia e noi sceglieremo la migliore squadra qui a Giulianova fatta di risorse locali, di persone che si mettano a disposizione della città e condivideremo tutto le scelte urbanistiche verranno prese con la democrazia partecipata il bilancio verrà fatto con il famoso bilancio partecipato insieme ai cittadini e scriveremo insieme il destino della città tutti quanti insieme io sono convinto che siamo alle porte di una rivoluzione per Giulianova noi verremo ricordati come un'amministrazione che ha cambiato il volto della città che ha reso una città migliore Lei ha parlato di cambiamento qual è l'ottica futura secondo lei che deve intraprendere il comune di Giulianova? Noi abbiamo, a differenza degli altri che hanno passato 40 giorni solo a insultare noi però non sappiamo cosa vogliono fare mancano 3 giorni alle elezioni che cosa vogliono fare Giulianova? Non lo sappiamo noi abbiamo parlato di cosa faremo subito profonda riorganizzazione della macchina amministrativa rotazione del dirigente ufficio tecnico al servizio dei cittadini pianta organica dell'ufficio tecnico mancano 5 persone quindi dobbiamo cercare di mettere l'ufficio tecnico nelle migliori condizioni possibili per lavorare i cittadini, il comune della cittadinanza sono entrato e per fare una carta d'identità non possiamo perdere 5 ore c'è necessità di far capire che il comune è dei cittadini e i cittadini devono venire in comune con sorriso sulle labbra e i dipendenti devono essere pronti, motivati ad accoglierli e a dare risposte immediate ai cittadini abbiamo parlato di turismo mi fa ridere un attimo pensare che nel programma del nostro competitor di turismo sono riportate due righe siamo una città che deve vivere solo ed esclusivamente per sei mesi di turismo noi viviamo di terziario e quindi sappiamo come incrementare la stagione turistica abbiamo pensato come impiegare la tassa di soggiorno dividendola in due parti una parte il 50% per le manifestazioni e per i servizi e l'altro 50% per opere infrastrutturali il turista a Voena Giulianova ci lascia dei soldi e l'anno dopo vuole vedere qualcosa di nuovo e noi regaleremo una rotonda davanti a Mare Chiaro e lo faremo subito perché le poste in bilancio, la tassa di soggiorno ci sono noi davanti a Mare Chiaro leveremo quell'orrendo cartodromo che c'è all'ingresso del molo nord del porto e faremo una rotonda benvenuti città di Giulianova gli ingressi di Giulianova sono determinanti il primo ingresso è a Villa Volpe non ce lo dimentichiamo Villa Volpe, Coleranesco e Villa Pozzoni noi vogliamo un viale urbano lì e quando qualcuno dice che non ci sono i soldi dovete sorridere perché nell'ufficio Europa e ce ne siamo accorti noi negli ultimi 5 anni ha intercettato zero fondi quando i comuni limitrofi intercettavano milioni di euro per opere infrastrutturali quindi io 5 anni fa probabilmente di queste cose non ne sapevo nulla non ci possiamo permettere un sindaco che di queste cose non ne sa nulla noi dobbiamo metterci al lavoro da subito io per 5 anni ho passato notte e giorno a studiare a studiare le delibere a capire cosa fare per il nostro comune e siamo pronti da lunedì mattina a prenderci in mano a prendere in mano i nostri cittadini e iniziare a lavorare come abbiamo sempre fatto con un cuore, l'entusiasmo, la passione che solo noi abbiamo regalato in questa campagna elettorale gli altri hanno solamente denigrato strillato parlato di temi nazionali parlato di immigrazione di ronde, di pistole di spreppi per un giro addirittura descrivendo Giulianova come una città che non è Giulianova è una città meravigliosa ci sono delle problematiche le andremo ad attenzionare ma paragonare Giulianova a Cerignola come è già accaduto sinceramente non è un buon biglietto da visita per la nostra città per il nostro comparto turistico e per i nostri cittadini e poi non ci dimentichiamo che abbiamo fatto una battaglia terrificante per avere la zona economica speciale qui a Giulianova l'abbiamo fatta noi quando gli altri forse erano a fare maratone, mezze maratone non lo so, noi c'eravamo siamo andati in regione abbiamo ottenuto 14 ettri di aria a zona economica speciale le andremo a perimetrare nella zona industriale di Coleranesco per far tornare attrattiva quell'area e per far tornare le aziende a investire a Giulianova quando parlano di filiera mi viene da sorridere mi viene da sorridere perché innanzitutto la filiera non sta con loro e nella riprova che i consiglieri regionali della provincia di Teramo non sono venuti a Giulianova ma sono venuti politici che vengono da tutt'altra parte ma non quelli di Teramo seconda cosa sappiamo perfettamente che la filiera ce l'aveva anche Mastro Mauro Partito Democratico a Giulianova Partito Democratico in provincia Partito Democratico in regione Partito Democratico al governo sono arrivati 0 euro la differenza la fanno gli uomini e i progetti e quindi noi abbiamo le idee chiare abbiamo uomini che sono pronti a mettersi a disposizione la città e abbiamo i progetti di là vediamo tanto 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 a raffare vediamo temi nazionali ma non vediamo nulla di concreto per la città di Giulianova Lei ha parlato già di tantissimi argomenti il turismo rappresenta ovviamente il volano per la crescita di un paese come quello di Giulianova però l'estate è arrivata come si fa ad entrare subito nel vivo? Bellissima domanda gli unici che hanno detto che andranno ad attingere perché lo sappiamo come fare il commissario ci lascia 10.000 euro per gli eventi estivi cifra non adatta e idonea al comune di Giulianova andremo ad attingere dal fondo di riserva per legge possiamo arrivare fino a 54.000 euro e quindi avremo circa 65.000 euro per regalare un cartellone delle manifestazioni estive degno della città di Giulianova gli altri neanche lo sanno che si può fare quindi noi da lunedì ci metteremo qui sposteremo quelle poste inizieremo a studiare il calendario abbiamo già proposto di montare due palchi permanenti uno in piazza Buozzi e uno in piazza del mare è fare il piano sicurezza dove il sottoscritto firma in deroga quindi tutte quelle annose problematiche che avete avuto per fare gli eventi non ci saranno firmerò in deroga io mi assumerò le mie responsabilità da amministratore e regaleremo degli eventi idoni al comune di Giulianova e ogni sera ci sarà qualcosa da fare ogni sera ci sarà un complesso che suona ogni sera ci sarà qualcuno che se vuole uscire troverà una città che si diverte una città che sorride una città dove non ci sono diverse problematiche che sono state discritte da altri Giulianova città stupenda quanto sono importanti per l'organizzazione di eventi come giustamente parlava a lei le associazioni ma anche la Proloco che è nata da poco sono il cuore sono il cuore di questa città io non credo come ha detto invece il mio competitor che bisogna portare a Giulianova eventi di carattere nazionale sì proveremo sono interessantissimi ma noi abbiamo le nostre associazioni abbiamo le nostre risorse e a Giulianova sono tante lui non le conosce perché ha detto che per 30 anni non c'è stato noi le conosciamo sappiamo che le nostre associazioni sono il cuore sono il fulcro noi abbiamo tantissima gente che con pochissimo dispendio di denaro può regalare tanto a questa città per non parlare della cultura noi abbiamo una città che ha tanta cultura in seno e qualche volta dobbiamo andarla a cercare qualche altra parte noi siamo dalla parte dei giuliesi non siamo dalla parte da chi viene dall'alto a dire che gli eventi li deve gestire qualcuno che è dell'Aguia o di Pescara li gestiamo qui a Giulianova tra di noi uno dei problemi che purtroppo riguarda anche il comune di Giulianova ma tutta la provincia di Tenomo e la regione Abruzza è la questione degli asfalti i cittadini chiedono degli interventi perché la situazione sta diventando veramente drammatica sì il piano asfalti che ci viene lasciato in eredità conta solo 250 mila euro una cifra inadeguata abbiamo parlato di un'emorragia sulla spesa corrente del comune di Giulianova dobbiamo intervenire per placare quell'emorragia e da lì introitare risorse importanti spendiamo tre volte le spese telefoniche del comune di Roseto spendiamo 39 mila euro per combattere il randaggismo inaccettabile non applichiamo il canone non ricognitorio che va a tassare le multinazionali lo ha fatto il comune di Tortoleto introitando circa 200 mila euro i soldi sappiamo dove risparmiarli e sappiamo dove andarli a prendere naturalmente la manutenzione è determinante e quindi noi ripartiremo con un piano asfalti perché quello che c'è è veramente insufficiente e abbiamo delle problematiche incredibili in qualsiasi zona della città quindi sugli asfalti assolutamente sì e ho incontrato proprio ieri il presidente della provincia che è stato qui a Giulianova abbiamo fatto un sopralluogo insieme e abbiamo individuato alcune strade provinciali dove dobbiamo immediatamente intervenire e lui come ha sempre fatto perché è una persona seria si è preso appunto l'impegno di farlo il sociale un argomento che a Giulianova purtroppo interessa anche tante persone come vedete voi l'ottica? beh siamo stati gli unici a metterlo sul programma quando qualcun altro se ne è accorto ha cercato di rimediare portando l'assessore al sociale qui a Giulianova addirittura con due ore e mezza di ritardo non funziona così noi siamo stati su cinque anni sul territorio conosciamo tutte le associazioni che fanno sociale conosciamo le problematiche tant'è che abbiamo previsto all'interno del nostro programma uno sportello unico riservato al sociale abbiamo la migliore commissione pari opportunità che c'è a Giulianova che c'è in provincia di Termo e qui a Giulianova che fa tantissime manifestazioni apriremo lo sportello per la denuncia sulla violenza sulle donne apriremo uno sportello di disabilità come quello del comune di Montesilvano gli altri non sanno neanche di che cosa stiamo parlando quindi per la prima volta il comune sarà a disposizione non solo del disabile ma anche delle famiglie perché molte volte tralasciamo le famiglie che sono il vero dramma perché le famiglie si praticamente annullano per stare dietro al disabile e cercano di naturalmente di farlo vivere nel miglior modo possibile e qui interviene il comune se c'è bisogno di un documento le famiglie non devono venire in comune il comune che va tecnicamente con l'ufficio dalle famiglie e siamo a disposizione per qualsiasi esigenza che queste famiglie ci riportano e oltretutto l'ufficio di disabilità studierà l'abbattimento di tutte quelle annose barriere architettoniche che non creano vivibilità per delle persone che sono per me normali come noi e che meritano di vivere in una città fruibile meritano di vivere in una città accogliente e meritano di vivere in una città che li coccola scuole comunque ci sono delle questioni dove si sta lavorando per la messa in sicurezza delle strutture bisogna intervenire perché purtroppo anche Giulia Nova rientra nell'annoso problema del sisma allora sulle scuole siamo stati quelli che hanno fatto più battaglia dalle opposizioni abbiamo tirato fuori proprio da questo cassetto quella delibera sulla scuola di Amicis che era stata diciamo messa un po' da parte l'abbiamo tirata fuori l'abbiamo posta all'opinione pubblica che abbiamo ottenuto per la scuola di Amicis di avere la super perizia del professor Modena che attestava che la scuola per pochissimo secondo il professor Modena che è uno dei massimi esperti italiani la scuola potesse essere idonea come plesso scolastico però dal 2014 diciamo basta mettere pezze noi abbiamo messo pezze da tutte le parti non è più concepibile bisogna fare il polo scolastico c'è già una progettazione in corso per la richiesta di fondi la regione ha già destinato circa 2 milioni di euro dobbiamo iniziare a pensare dell'area del polo dell'ex tribunale per cercare di fare lì un vero e proprio città una città della scuola una città dove ci sono diversi plessi e non dobbiamo dimenticarci assolutamente di quelle strutture che oggi sono fatiscenti come la Pagliaccetti noi dobbiamo la Pagliaccetti avere le idee chiare ce le abbiamo quell'edificio va recuperato può essere gestito come plesso scolastico o può essere anche destinato come conservatorio mi viene in mente o per opere ricreative nel pomeriggio ma noi non lasceremo i plessi scolastici all'abbandono sulla scuola di Colleranesco siamo stati quelli che ci siamo accorti che c'era qualche problematica sulle fondamenta della zona T1 che è la zona di ingresso ed è anche la zona di evacuazione sappiamo quante risorse servono per completare i lavori e non vediamo l'ora di trovare queste risorse perché la scuola di Colleranesco deve essere riaperta e anche il campetto in adiacenza Lei prima ha parlato di Europa l'Europa è importante per il Comune Giulianova e quale possono essere strategie utili per portare economicità in città? Beh l'Europa è determinante ma non per il Comune Giulianova è determinante per tutti quelli che fanno pubblica amministrazione voi dovete pensare che l'Abruzzo intercetta il 2% dei fondi e il 98 lo rimandiamo in Europa e quel 98 va per la seconda volta ridistribuito su paesi che hanno già avuto la loro quota quindi poi ci ritroviamo paesi del nord Europa che hanno delle infrastrutture incredibili e noi che siamo rimasti a guardare quando passavano fiumi di progetti e fiumi di bandi quindi noi crediamo nell'ufficio Europa che è stato congelato a seguito della nostra denuncia quindi rifaremo un ufficio Europa qui a Giulianova importantissimo che deve lavorare deve scaricare progetti deve fare progettazione deve capire quelli che sono i bandi noi ci siamo regati a Bruxelles di spese nostre siamo stati quattro giorni per capire quelle che saranno le linee programmatiche dell'Europa per i prossimi anni molti bandi saranno su tutta quella questione che ruota attorno alla digitalizzazione Giulianova non è una città più digitale chi lo sa che esiste a Giulianova un centro storico un porto lo sappiamo noi che c'è un santuario mariano dobbiamo essere digitali dobbiamo iniziare a far conoscere il nostro territorio il nostro territorio è fantastico ma non lo sa nessuno quindi anche lì l'Europa ci mette a disposizione dei fondi ma vi dirò di più voi dovete pensare che anche delle manifestazioni di carattere internazionale possono essere finanziate con i bandi europei noi abbiamo il festival delle bande abbiamo tantissime manifestazioni internazionali che ruotano qui a Giulianova e quindi dobbiamo mettere in comune una task force di ragazzi preparatissimi che possano appunto espletare le pratiche per le nostre associazioni intercettare denaro e far tornare a fiorire una città perché la realtà dei fatti è che il cambiamento passa anche dagli uomini e le donne dai nostri volti il cambiamento non lo faranno gli uomini che hanno amministrato nel 95 con camelli e poi lo hanno fatto anche cadere la coalizione centrodestra è fatta solo esclusivamente di persone che hanno amministrato 35 anni fa 30 o 35 anni fa non è cambiamento il cambiamento passa per uomini e donne liberi e la mia coalizione è piena a Giulianovo c'è un porto che rappresenta veramente il fiorell'occhiello per la città però bisogna ancora lavorare per svilupparlo ma sulla questione porto io mi sento toccato da vicino perché la prima attività che ha aperto la mia famiglia era proprio l'interno al porto conosciamo le problematiche il porto di Giulianova è l'unico porto del medio adriatico nel cuore della città oltre quello di Trani quindi è evidente che dobbiamo ripartire dal porto il porto non ha servizi il porto in questo momento non ha un supermarket ha pochissime attività commerciali aperte il porto deve diventare fruibile ha troppe barriere architettoniche dobbiamo portare persone dentro al porto e dobbiamo aiutare il diportista che si vuole fermare dentro al porto sono convinto che sul porto troveremo veramente tante risorse e tante idee io credo tanto nei concorsi di idee anche per quanto riguarda l'urbanistica bisogna iniziare a pensare che bisogna fare i concorsi di idee e non si può pensare che come fanno i partiti ci si chiude in una stanza col tecnico amico e si decide di essere una città bisogna pensare a fare concorsi di idee scendere nelle piazze e decidere insieme alla cittadinanza anche perché io come amministratore ve lo dico francamente aspirante amministratore andrei a dormire la notte molto più sereno perché ho fatto quello che i miei cittadini mi hanno chiesto quindi noi sul porto abbiamo tantissime idee ma come le abbiamo per le altre zone di Giulianova ma massima condivisione democrazia partecipata un altro argomento molto sentito in città è la questione dell'ospedale se ne è parlato moltissimo degli ultimi mesi però ad oggi ancora non si capisce quale sarà il futuro allora partiamo permettetemi una battuta il mio competitor ha detto tre cose in dieci giorni diverse e la Lega a livello regionale parla di ospedale unico a Sant'Anto noi difenderemo l'ospedale a Giulianova ad ogni costo noi il decreto Lorenzino prevede un ospedale di primo livello e vogliamo l'ospedale di primo livello perché non è l'ospedale di Giulianova è l'ospedale della costa Terramana è l'ospedale che abbraccia Notaresco, Mociano, Tortoreto Giulianova, Roseto ed è l'unico ospedale che c'è tra San Benedetto e Pescara noi vogliamo il primo livello ci batteremo per avere il primo livello sapete tutti che la mia prima azione l'ho detto con la fascia sarà sedermi davanti al presidente Massiglio che saluto perché mi ha anche rivolto una telefonata negli scorsi giorni lo saluto e con la fascia mi siederò davanti a lui e cercherò di tutelare di difendere l'ospedale di Giulianova ad ogni costo e ricordate sempre quando qualcuno dice e ho letto dei post sui social veramente anche fatti da qualche dottore veramente preoccupanti quando qualcuno dice siccome io sono di questo partito questo territorio sarà avvantaggiato ricordiamo a tutti che è un reato c'è il presidente della regione il presidente di tutti gli assessori regionali sono gli assessori di tutti e quindi io sono certo appunto abbiamo spiegato prima la figlia sono certo che avremo l'adeguata considerazione la stessa e che riusciremo in ogni modo a dare risposte con queste sull'ospedale ma la nostra linea a differenza di quella dei partiti è che a Giulianova serve l'ospedale di primo livello Costantini siamo arrivati quasi alla fine di questa lunga intervista però c'è un argomento che vorremmo ancora trattare con lei la questione del quarto lotto della Terra Momare un tracciato un progetto che è stato presentato diverso tempo fa però ad oggi sembrano sparite le tracce ma allora il discorso è che dobbiamo approfondire più volte si parla del competimento del quarto lotto della Terra Momare sapete perfettamente che non è di competenza comunale una sola cosa guai a pensare di non fare l'uscita del quarto lotto della Terra Momare nella zona industriale di Colleranesco guai perché da progetto non è prevista e io mi batterò ad ogni costo per avere l'uscita del quarto lotto della Terra Momare a Colleranesco è determinante perché dobbiamo dare vita a quella zona industriale dobbiamo cercare di dare sfogo a Giulianova perché sennò rischiamo che il quarto lotto della Terra Momare esca a Cologna bypassando tutto il centro cittadino di Giulianova e non dando la possibilità a tutti i camion e i tir che devono entrare nella zona industriale che andremo a riqualificare come dicevamo prima con la zona economica speciale dobbiamo dargli la possibilità di essere rapidamente agganciati alle arterie primarie quindi ci batteremo non solo per farlo ma anche per avere un'uscita importante sulla zona di Colleranesco Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato un messaggio ai cittadini giuliesi Il messaggio ai cittadini giuliesi è l'appello al voto mancano poche ore noi vi abbiamo parlato trasmettendo il programma ma soprattutto trasmettendovi qualcosa l'entusiasmo il cuore la passione toccandovi con mano uno per uno abbiamo fatto oltre 320 incontri in 40 giorni abbiamo cercato di parlare tecnicamente a tutti trasmettendo il nostro entusiasmo la nostra voglia di cambiare le cose il nostro modo genuino di fare politica non ci piacciono le continue passerelle degli altri noi pensiamo a noi ci hanno tirato addosso di tutto ma sappiamo che i cittadini giuliesi non sono sono persone responsabili non si fanno trarre negli inganni nei tranelli di una serie di post video veramente discriminanti noi siamo persone serie lo abbiamo dimostrato io vivo a Giulianova da 36 anni sapete tutti chi sono o una squadra fatta di donne e soprattutto di uomini e ragazzi straordinari faremo le cose giuste per Giulianova e non le cose giuste per qualche politico che viene dall'alto faremo quello che va fatto e toccheremo con mano ogni singolo cittadino verremo ricordati come un'amministrazione trasparente come un'amministrazione che prende le decisioni nelle piazze e non nelle segrete stanze quindi mi raccomando domenica andate a votare andate a votare per l'unico vero cambiamento non fatelo per l'ivan Costantini ma fatelo per i vostri figli e per regalare alla città di Giulianova un futuro migliore grazie mille al candidato Ivan Costantini a cui noi facciamo il più grande in bocca al lupo viva il lupo grazie purtroppo l'altro candidato Pietro Tribuiani appoggiato dai partiti centrodestra ha deciso di non partecipare a nessun confronto televisivo ma anche a lui facciamo il nostro più grande in bocca al lupo quindi non resta che ringraziare voi amici telespettatori che ci seguite da casa e darvi appuntamento a domenica 9 giugno per seguire insieme e conoscere il nuovo sindaco del comune costiero a domenica 9 giugno a domenica 9 giugno Grazie a tutti.